Ora vedrete una serie di acrobazie molto pericolose effettuate in circuito chiuso. Questo è un uomo la cui vita dipende dall'automobile. Si chiama René Julienne, il più grande cascadeo europeo vivente. In Europa ci sono decine di tipi di automobili da scegliere, eppure in più di cento film a cui René Julienne ha partecipato ha impiegato più modelli Fiat che qualsiasi altro. Grazie a tutti.